Dio risponde, interviene, so che si può rivelare, può cambiare, lui può risolvere i problemi fisici, mentali, lui può risolvere il problema dell'ansia, della depressione, può risolvere il problema della solitudine, qualsiasi cosa lui lo può risolvere, perché in lui si trova la vera soluzione. Gesù ha detto venite a me, io vi darò riposo, lui è il principe della pace, e così come anche è descritto nei Vangeli che Zaccheo era un uomo ricco, però non era soddisfatto e cercava Gesù, poi lui come l'ha cercato col cuore ha trovato Gesù e Gesù ha detto voglio entrare in casa tua, Gesù vuole entrare anche in casa tua, portarti del bene, Gesù vuole entrare nella tua vita, Gesù vuole entrare nel tuo cuore, lui sta alla forza del tuo cuore picchia e lui vuole entrare, cambiare e portarti pace, amore, gioia e trasformazione, lui lo può fare se tu gli apri il cuore, mentre prego di Signore ti ricevo, ti voglio, entra nel mio cuore, nella mia vita, lui lo farà, ti sentirai la vera pace che non l'hai avuto mai, ma che puoi avere da Gesù, Signore ti prego per ogni fratello e sorella che tu possa benedirli e possa raggiungere in questo momento e possa entrare nel loro cuore e nella loro vita, possa avere misericordia, metti pace, metti amore, metti gioia, grazie perché sei un Dio vivo e reale e tu lo farai nel nome di Gesù, amè. Grazie a tutti.